Mario Chiuto è un giovane architetto, ma nel suo medagliere figurano già numerosissimi ori. Presidente dell'Ordine degli Architetti di Cosenza dal 2000, già membro del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali, il suo nome figura nel Winning Italy, l'albo delle eccellenze italiane. Apprezzatissimo all'estero, i suoi progetti sono stati presentati alle Biennali di Venezia, Londra e Pechino. Nel 2008 riceve il China Trader Award e per l'Expo di Shanghai 2010 firma il padiglione B2. Mario Chiuto ha già elaborato master plan e progetti per una città di 80.000 abitanti a Pechino e per un'altra di 40.000 a Nanchino. Nonostante i numerosi e importanti lavori realizzati in Cina, tra cui la nuova sede del Ministero dell'Ambiente cinese, Occhiuto non ne vuole sapere di lasciare la sua città. Occhiuto non ne vuole sapere la sua città. Occhiuto non ne vuole sapere la sua città.